Ciao a tutte, eccoci qua con un altro video acquisti che abbiamo fatto per la decorazione delle nostre agende li abbiamo acquistati da una ragazza che si chiama Mariella de Miranda sto leggendo perché altrimenti con la memoria che io i nomi non me li ricordo mai di cui vi lascio giù nell'info box la sua pagina facebook allora, cominciamo ha mandato a prendere quattro set di abbellimenti diciamo e tutti i set che vedrete li abbiamo pagati un euro quindi non li abbiamo pagati tanto possiamo? allora, cominciamo con il set dei gufi eccoci qua guardate che belli tanto tirare con la birra, con la paperella ma che bella la birra poi ci sono questi due forse dovremmo fare l'inquadratura dall'altro questo questo qua vedete come sono tutti belli e per il formato personal, almeno io che ho la personal con i refill due giorni per pagina queste decorazioni stanno da dio poi c'è di nuovo quello rosa perché chi ha una personal come con la settimana su due pagine diventa un insomma se mi stanno di meno mi piace per ogni giorno metterci una decorazione eccoci qua e questo set è il set dei gufi un euro intanto tu tiri fuori quella dei mici perché della serie non si capisce che amiamo i gatti io ultimamente sto facendo una decorazione solo con i gatti il raffreddore comincia a farsi sentire perché il tempo è di cacca scusate alla mattina c'è freddo ti devi vestire come un eschimese al pomeriggio invece c'è un calo che tra un po' ti devi comincia a prendere possesso anche lei della oddio cosa? è il mio fazzoletto che era dai su andiamo poi allora i micetti guardate che belli sì stupendi micio quattro micio andiamo a vedere questi scozzesi sono stupendi guarda che un po' rino un testo in giù no? questo qui rosa col cuore sono troppo belli ora questo tutti bellini bellini no il filo del ferro da stile dai lo stesso tanto occupata mentre giriamo il video se no qui ragazzi guardate guardate sono un amore ahia non usa sono un amore un po' forte niente non guardarla che così si 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 passa via si ci smonta il monitor quindi oggi c'è per forza da andarlo a prendere ma no lei è brava ah pua che bellino pua è troppo e questo è il set dei gatti sempre un euro sta mangiando praticamente il catalogo no ho già fatto no ho già fatto tranquilla ho già dato no no quello lì non mi serve più quel catalogo lì qua questo qui è il set kawai kawai kawaii eccoci qui pandino ghiacciolo ghiacciolino muo che bello troppo bello c'è il cucchiaino ti la fai sono troppo bellini no bellini dire bellini è poco perché sono troppo forti cupcake cosa c'è il maialino un maialino col cuoricino il maialino c'è anche la pecorraglia e dopo la fai vedere no no aspetta ecco tostapane il tos col cuoricino altro panda un coniglio la pecorella che dicevamo prima c'è troppo pandino nicio e gelato voilà e questo l'ultimo set che abbiamo preso che è il set se non sbaglio cupcake coffee direi sì una tazza va bene per me cupcake guardate che bello altro cupcake cupcake c'è un bello come è che li chiamo? i donuts non ne imbracco mai come si dice giusto quindi potrei avere anche sbagliato ah proprio io non riesco a pronunciarle vedi tu altra bella tazzina di caffè eh sì un attimo abbiamo finito ragione la tazza con la casina troppo forte altra tazzina all'americana quelli che si portano in giro gli americani cupcake cupcake tazza con cupcake e questo adesso dobbiamo far vedere in senso basta quel set questi sono i pediomaggini che gentilmente ci ha ci ha inviato e la poi la sera non si fa sentire anche lei vuole farsi sentire ha ragione perché ci sono facendo una cosa cosa vuoi fare? prendono già tutti i pezzi di giornale ah eccolo qui allora qui ce l'ho una mappa una mappa giornale eccoci qua allora questa è tipo una cartina geografica di quelle vecchie un giornale con cartolina ritagli vintage questi qui sono ritagli vintage non troppo belli poi tutti i cosi di giornale che sembrano piegati non lo sono fanno uno strano effetto poi abbiamo un tag trasparentino è bellissimo abbiamo dei tipo bigliettini diciamo del treno bigliettini vari sono i bigliettini del treno di una volta sei piccolini ma il più di tanto non ci rappresenti io il treno se vuoi dire che l'ho preso solo ma li ho visti nei vecchi film ah eh che anch'io non è di archè insomma altri biglietti questo qua mi piace tantissimo perché ha lo spartito musicale su scusa me lo lascio certo e per finire questo che ho poi rilievo tira un po' più su se oh la eccoci qua questi qua sono stati i nostri acquisti aspetta che li metto dentro tutti insieme così fanno meno fatica i nostri acquisti e gentilmente che ci ha mandato Mariella a cui dopo le raccogliamo non si rompono a cui mando un grosso bacione grazie mille e mi raccomando date vedere la sua pagina facebook ciao ciao alla prossima